La rotatoria ha tutti gli effetti un'intersezione, tale va valutata ai sensi del codice della strada. I veicoli che escono dalla rotatoria compiono manovre che sono considerate analogalmente a delle svolte. Solitamente ha posto un segnale di dare precedenza all'ingresso della rotonda, laddove questo non sia presente, ha la precedenza a chi si mette nella rotatoria, poiché a tutti gli effetti arriva da destra. È ovvio che chi si approccia alla rotatoria deve moderare la velocità ed essere pronto a dare la precedenza ad altri veicoli. Nell'affrontare una rotatoria ad una sola corsia per senso di marcia, l'automobilista deve tenersi vicino al margine destro della careggiata durante l'immissione, azionare l'indicatore di direzione non appena avrà superato l'uscita che precede quella a cui intende uscire, uscendo dalla rotatoria si ha il diritto di precedenza, a meno che non ci sia un pedone o un veicolo d'emergenza. Nel caso di una rotatoria più corsie è importante scegliere la corsia in cui mettersi rispetto all'uscita che si deve prendere. Nelle rotatorie ha più corsie che solitamente hanno almeno tre uscite, ogni corsia è da utilizzarsi per una specifica uscita. Utilizzare la corsia di sinistra se si intende girare a sinistra, fare un'inversione a U o andare dritto. Utilizzare la corsia di destra se si intende prendere la prima uscita a destra o andare dritto. Importante è anche prestare attenzione alla segnaletica relativa ai cambi di corsia, che sono di solito presenti con dei cartelli sul ciglio stradale o delle frecce dipinte sull'asfalto e valutare bene i cambi di corsia durante la percorrenza della rotatoria, avendo cura di non tagliare la strada dagli altri automobilisti.